A sei giornate dal termine del campionato di eccellenza, distanziate di cinque lunghezze, Vado e Rivarolese si affrontano al Chitolina in una gara che può dire tanto se non tantissimo sull'esito finale del campionato. La Rivarolese vincendo darebbe una spallata importante al Vado e le altre dirette concorrenti, i rosso-blu di Tarabotto invece vincendo ritornerebbero prepotentemente in corsa per il primato. Gara subito spigolosa con un giallo per parte Eranio e Puddu, è di Flavio Manca il primo tentativo, il suo mancino macchiato in corner, è l'avviso ai naviganti. Marchiato Rivarolese perché al quarto d'ora esatto la squadra di Stefano Fresia passa con il destro affilatissimo chirurgico di Romei che cerca e trova la buca d'angolo ispirato dall'elegante sventagliata di Oliviero. Il mucchio selvaggio sopra la punta è l'emblema del valore del peso specifico della rete del vantaggio ospite. A Voltoia ad un passo davvero dal raddoppio, sette minuti dopo è ancora di Oliviero l'assist, Flavio Manca fa fuoco da distanza zero, incredibilmente centrando Iliante. Redelli scuote il rosso-blu costringendo Basso in corner ed è il preludio al pareggio della squadra di casa con l'errore di Ungaro che spiana la strada al destro di Edo Capra. Basso si allunga ma non basta ed è tempo di Capriole per il numero sette ex finale. Cardiologi e cardiochirurghi sono ben accetti al Chitolina perché al trentaduesimo la riverolese è di nuovo avanti ancora con Simone Romei che questa volta si allunga in acrobazia sul cross dalla sinistra di Eranio. Non c'è tempo per risultare perché appena tre minuti dopo sul cross di Edo Capra Donaggio viene a contatto con Gambarelli. Il signor Calzolari di Albenga non ha esitazioni nell'indicare il dischetto ed è glaciale dagli undici metri lo stesso Donaggio. Basso da una parte, palla dall'altra, siamo 2-2 ed è appena il trentacinquesimo. Il ritmo e la temperatura sugli spalti sono incandescenti, minuto 41. Ancora Capra inventa dal fondo D'Antoni, fallisce il tapin, la palla del 3-2 è sul piede di Gallo, mostruoso l'intervento di Basso che inchioda il 2-2. Ed è ancora il numero uno ex Acqua Nera a limarsi le unghie sul destro a rientrare affilatissimo di Gallo con cui termina la prima frazione. Fresi e Tarabotto ripropongono gli stessi 22 alla ripresa, di far calare il ritmo non se ne parla, Gallo a tu per tu con Basso ha subito la palla del 3-2, masticata tra le braccia del numero uno ospite. La rivarolese si ritrova in inferiorità numerica al tredicesimo per questo intervento da Tergo di Eranio già monito dalla prima frazione su Donaggio. Pochi minuti dopo è il quindicesimo il miracolo di Basso sul colpo di testa di Donaggio con D'Antoni che poi ribadisce sul fondo. Parità numerica ristabilita al minuto 19 per il doppio giallo rimediato anche da Pudu, reo di fermare la ripartenza di Basso. E al ventitresimo ci vuole ancora un grosso intervento di Basso sul destro dalla distanza di Donaggio che termina la propria corsa sul palo. Duello che viene replicato ancora al ventisettesimo e ancora una volta è il numero uno ad uscirne vincitore. Al ventottesimo l'espulsione del Nero per questo intervento ai danni di Mura, anche lui era già monito, e nuovamente viene ristabilita la parità numerica al minuto 43 per il doppio giallo rimediato anche da Napello, reo di fermare Donaggio lanciato a rete. Ma non è finita perché al quarto dei cinque minuti di recupero con Cessi è lo stesso Donaggio su punizione a chiamare Basso alla respinta. Il rimbalzo in stile basket è di Dagnino che c'entra. Il numero uno ospite viene a contatto con Capra mancando la sfera. Sfera che colpisce Ungaro e termina in rete. È apoteosi Vado-Furia, Rivarolese con Basso e San Giuliano espulsi. Noi ci affidiamo alla Moviola in studio. Il risultato del campo dice che il Vado fa sua una battaglia campane. Sa forti gli abbaglianti sulla Rivarolese che adesso dista solamente due lunghezze.